buonasera a tutti io sono floride giovane per chi non mi conoscesse sono un rosolinese che lavora da qualche anno a cremona adesso lavora pronto soccorso dove stiamo affrontando dove stiamo affrontando un'emergenza internazionale perché ormai è diventata una pandemia come tutti sappiamo purtroppo io da venerdì mattina ho saputo della mia positività al copite quindi sono anch'io positivo al coronavirus ovviamente è stata una batosta inizialmente adesso sto cercando di affrontare la situazione come come giusto che sia con tranquillità e soprattutto con intelligenza perché l'intelligenza è fondamentale in questi casi quindi voglio sto facendo questo video che non è facile per me per sensibilizzare tutti i miei amici soprattutto tutte le persone a rimanere a casa perché solamente così si possono ridurre i contagi io sono un infermiere non vedo l'ora di andare in corsia perché la mia indole il mio codice deontologico è questo non vedo l'ora di andare a lavorare per cercare di aiutare più persone possibile e mi rammarica il fatto di non poter dare un cambio ai miei colleghi comunque spero e sto facendo questo video per sensibilizzare a tutti voi di rimanere a casa e i miei amici del nord di rimanere al nord e di non andare al sud perché potremmo essere fonte di contagio ed è importante salvaguardare la salute dei nostri cari io vi auguro una buona serata e sono sicuro che andrà tutto bene un abbraccio grande a tutti voi buona serata